Ciascuno procuota, faccia la propria parte e metta le proprie risorse. Basta polemiche, tutti uniti per risolvere il problema, dice Pizzetti. Il ponte di Casal Maggiore stava per passare all'ANAS, ora occorre individuare un'alternativa, capire il danno, quantificarlo e siglare un protocollo di intesa tra regioni, province e Stato. Intanto bisogna evitare le stupidaggi delle serie, i ponti sono così perché c'è stata la riforma del rio delle province. Secondo, bisogna evitare le furbizie, cioè pensare che la palla viene continuamente gettata nell'altro campo, la regione chiede allo Stato e via dicendo. E insieme a questo bisogna evitare la storia dei canoni di Mussolini, per cui togliamo le risorse dal ponte di San Daniele e le mettiamo su quelle di Casal Maggiore, perché qui siamo in emergenza, come lei ha detto, e servono risorse aggiuntive. Le risorse aggiuntive vanno trovate e ciascuno deve fare la sua parte. La deve fare la regione Lombardia, le risorse le ha nel patto per la Lombardia, sono 10 miliardi, la deve fare la regione Emilia-Romagna, lo deve fare lo Stato, tanto più che quel tratto di ponte, quel ponte, con i protocolli di intesa, era in fase di passaggio ad Anas. Quindi a maggior ragione tutti insieme, senza polemiche, debbono fare la loro parte. Molti invocano un sopralluogo del ministro del Rio. Ma i sopralluogo lo devono fare i tecnici, il tema non è quello, stiamo parlando della superficie, la sostanza, per favore, la sostanza. Da parte dello Stato la sostanza arriverà, ci sarà? Da parte dello Stato, una volta che ci sarà la quantificazione del danno e saranno chiare le coperture, allora lo Stato, ripeto, procuota, farà la propria parte, insieme alla regione Lombardia e alla regione Emilia-Romagna. Quello che non può accadere, come è accaduto ieri, è che la regione Lombardia dica parla del Rio. No, prima parli con te stesso e siccome hai 10 miliardi del patto Lombardia, ci dici quante risorse hai a disposizione. Com'è possibile che i collegamenti tra due regioni, tra le più ricche d'Europa, siano ridotti così? Servono interventi rilevanti, che ovviamente c'è sempre una qualche altra emergenza che vengono rinviati, in che l'emergenza tocca lì. Perché il punto è, il ponte di San Daniele è messo così, Casamaggiore è così, sul Mantovano, noi abbiamo il ponte in ferro che ogni tanto ha bisogno di, cioè l'unica cosa certa è il ponte autostradare. Per cui quando si parlava del terzo ponte non si parlava a Vanvera.